La Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila tramite IPM Alfredo Rossini ed Olga Capasso ha iscritto nel registro degli indagati per reati contro la pubblica amministrazione l'imprenditore aquilano Ettore Baratelli, nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per il G8 dell'Aquila e per la ricostruzione post-terremoto. Baratelli è stato coinvolto in quanto presidente del Consorzio Federico II, creato dopo il terremoto costituito dall'impresa della famiglia Baratelli, da altre due aziende aquilane, Vittorini, Emidio e Marinelli Equizzi, e della BTP del presidente di missionario Riccardo Fusi. Quest'ultimo è coinvolto nell'inchiesta di Firenze e poi passata a Perugia sui grandi eventi che ha colpito il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci, l'imprenditore Diego Anemone e ha portato al coinvolgimento come indagato del capo della Protezione Civile Nazionale, Guido Bertolaso. Secondo l'accusa, il Consorzio avrebbe cercato di ottenere appalti nella ricostruzione attraverso la presentazione di politici influenti. Baratelli è anche consigliere di amministrazione della Carispac, componente dell'Assemblea della Fondazione della Carispac e vicepresidente del Lancio e l'Aquila. I lavori curati dal Consorzio Federico II sono la costruzione del MUSP della media a Carducci, 7,3 milioni di euro, il restauro di alloggi della caserma Pasquali, la messa in sicurezza e il recupero d'opere d'arte e puntellamenti. In merito all'iscrizione di Ettore Baratelli nel registro degli indagati, però arriva la precisazione della Protezione Civile. Il Dipartimento, sottolinea, non ha mai affidato alcun incarico al Consorzio Federico II nell'ambito dei lavori gestiti all'Aquila.